Un buon pomeriggio ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Pisa ci sono 3 km di coda per un incidente avvenuto al km 24,5 tra Prato Ovest e Pistoia. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in pruneta, sempre per lavori è chiuso in entrata lo svincolo di Colle Valdelsa Sud in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia è chiuso per lavori lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata e uscita in direzione Livorno. I treni per un guasto agli impianti di circolazione tra Monte Carlo e Alto Pascio. I regionali potranno subire ritardi, cancellazioni e variazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!